Credo che sia molto importante in questo momento sostenere l'industria, in particolare il cinema d'autore. Quindi noi come laboratorio di sviluppo di lungometraggi e serie tv ci teniamo ad essere presenti in un mercato come il MIA che è fondamentale per la presentazione di progetti di serie tv e di lungometraggi, un momento di incontro per l'industria che in questo momento è più necessario che mai. Credo che sicuramente in questo momento stiamo affrontando una serie di sfide, ma sono fiduciosa che il settore riuscirà a reagire, ad adattarsi, a essere creativo nelle risposte alla crisi che diciamo la pandemia forse quello che ha fatto è quello di accelerare dei processi che erano già iniziati prima della pandemia stessa.